Diamo il benvenuto a Cristina Cagnato, responsabile marketing e comunicazione Mitsubishi Motors Italia. Volevo innanzitutto ringraziare Cristina Cagnato di essere qui con noi a SeDrive. Ciao Cristina. Ciao. E parliamo del vostro cavallo di battaglia Mitsubishi SX, questo crossover di recente sul mercato anche con una doppia motorizzazione e un B-Fuel GPL che in questi momenti di economia molto difficile può essere una risorsa importante. Certo, sì. Il nostro crossover compatto che nasce con motore benzina e motore diesel è stato poi di recente arricchito con la versione B-Fuel appunto benzina GPL che sicuramente in un momento in cui la benzina è sempre più cara consente di ottenere dei buoni risparmi e in effetti ha avuto un buon riscontro dal mercato. Diciamo che un 30% delle vendite SX sono costituite dalla versione GPL. Un GPL che indubbiamente non penalizza le prestazioni assolute della vettura ma anche a livello di ingombri interni, sappiamo le famose bombole, non è così poi invasivo. No, assolutamente. In termini di prestazioni non si perde niente. In termini di ingombri si è riusciti a posizionare il serbatoio del GPL al posto della ruota di scorta quindi sotto il pianale del bagagliaio in modo che lo spazio del bagagliaio sia rimasto interamente utilizzabile e in termini di appunto risparmi come dicevamo prima è notevole perché con 50 euro di benzina si fanno circa 450 chilometri e con 50 euro di versione B-Fuel se ne fanno più di 700 quindi devo dire che il risparmio è veramente concreto. Esatto, poi autonomia se andiamo a sommare tutte e due le capacità e tra l'altro fortunatamente e finalmente ormai la rete distributiva del GPL in Italia è molto ricca. Sì, assolutamente. Rispetto a qualche anno fa in cui alcune regioni erano quasi completamente scoperte ormai la rete è abbastanza capillare. Certo, ci sono ancora comunque delle regioni molto più sviluppate in questo senso ma devo dire che i nostri clienti non si lamentano in termini di rete infrastrutturale proprio perché riescono comunque a sfruttarla. Poi tra l'altro il DNA di Mitsubishi è la trazione integrale siete il numero uno da questo punto di vista però ASX per chi volesse ulteriormente risparmiare conferma che è presente anche con una versione a due ruote motrici. Sì, assolutamente. La versione benzina negli allestimenti di ingresso della gamma è disponibile anche solo in versione 2WD in modo che, insomma, se uno non ha bisogno delle quattro ruote motrici inseribili può cercare appunto le versioni più convenienti. Sugli allestimenti un po' più cari del diesel e 4WD proprio in questo mese le stiamo proponendo allo stesso prezzo del benzina e quindi c'è un grande risparmio per il cliente. Ecco, se magari vogliamo raccontare ai nostri telespettatori questo prezzo aggressivo. Ma dunque, l'offerta del diesel al prezzo del benzina consente un vantaggio cliente di quasi 3.000 euro e quindi effettivamente si va incontro un po' alle esigenze di tutti. Se questo è il presente nell'immediato futuro, l'abbiamo vista a Ginevra c'è un Outlander completamente rinnovato nelle forme e nella sostanza. Assolutamente sì. A Ginevra abbiamo visto in anteprima mondiale il nuovo Outlander completamente rivisto nella carrozzeria e proprio anche nella sostanza dei motori. La lunghezza rimane identica all'Outlander attuale però per il resto è una vettura completamente nuova e in Italia la vedremo solo verso fine anno quindi diciamo che per il momento bisogna accontentarsi delle foto di Ginevra. Tra l'altro completamente nuova nell'esterno ma con tante peculiarità interessanti anche sotto il cofano a partire da un ibrido se mi ricordo bene. Sì, esatto. Il nuovo Outlander è stato progettato e concepito fin dall'inizio anche per avere la versione ibrida che arriverà diciamo qualche mese dopo rispetto alle versioni tradizionali quindi si parla già del 2013 ma è un ibrido plug-in di concezione completamente Mitsubishi su base elettrica quindi con un motore elettrico anteriore un motore elettrico posteriore e un motore benzina endotermico che supporta, aiuta il motore elettrico fungendo da generatore però si può guidare o in modalità completamente elettrica per gli utilizzi urbani o in modalità in serie o in parallelo quindi a seconda che si abbia più o meno autonomia elettrica oppure che si voglia viaggiare anche a velocità più sostenuta il motore endotermico funge da ausilio e quindi consente poi un'autonomia notevole. Infatti non dimentichiamoci che in caso avete già una tecnologia elettrica che avete anche spalmato su altri costruttori io proprio a Milano in questi giorni ho visto le prime vetture elettriche ecco sono ancora un po' care ma cos'è la percezione? Comincia ad esserci un po' di curiosità dietro questa alimentazione alternativa? Guarda curiosità ce n'è tantissima devo dire veramente da tutti i fronti dalle aziende, dalle istituzioni dai clienti privati dalle giovani famiglie è chiaro che effettivamente l'auto completamente elettrica nel nostro caso la IMIEV è un costo inaccessibile al momento per i privati qualche azienda sta facendo qualche sforzo tramite il noleggio e l'easing però i numeri insomma delle vetture elettriche che si vedono in giro sono ancora ridotti noi pensiamo che con l'introduzione dell'ibrido plug-in si possa comunque colmare questo gap insomma tra la mobilità attuale e la mobilità del futuro che probabilmente sarà quasi del tutto elettrica e ibrida e quindi venire incontro anche alle esigenze di una maggiore autonomia per i viaggi extraurbani e comunque ad un costo complessivo meno ingente ok ti ringraziamo ancora per questa presenza perciò avete capito per ora accontentiamoci si fa per dire del GPL che tra l'altro è una scelta molto interessante dal punto di vista economico ma anche ecologico e poi tra qualche mese tutti alla guida di queste vetture con anche la motorizzazione elettrica buonasera grazie